E' un comune regalo 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 di fronte è l'altra gente per il regalo più grande adesso non c'è per sempre un sorriso è l'una perché nel mio tempo la guarda possa passare a te per ricordarti che il mio amore è importante non importa, so che ti ce la sento perché tu mi ha portato con la tua giornata qui e io ho di potvere Sì. Sì. Sì.